Si viaggia alla volta della campagna per le formazioni molisane impegnate in serie B di basket nell'undicesima giornata di andata. Entrambi infatti sono attesi in match esterni. Isegna andrà scafati mentre Venafro farà visita al Maddaloni. Cominciamo dal Globo Isegna. I ragazzi di coach cardinale vengono dalla bella e importante vittoria di sette giorni fa in casa contro Maddaloni col punteggio di 87-82 che ha dato tanto morale a Guagliardi e compagni oltre a due punti in più in classifica fondamentali in questo momento della stagione toccando quota 6 frutto di tre vittorie. La bella prestazione fornita contro Maddaloni non deve rimanere isolata. Ora serve continuità di risultati. E quali occasioni migliori sono in quella di domani? Non sarà facile, tutt'altro scafate un avversario forte e specie sul proprio parquet. I gialloblù guidati da coach Iovino hanno 10 punti in classifica. Sono una squadra di grande talento dove tutti i giocatori al referto hanno punti pesanti nelle mani. Vengo dalla netta vittoria di Fondi per 78-55. Il quindetto base è composto da Sergio Di Capua, 13,8 punti di media. Sansone, Malpete e Carrichiello, 12,9 punti di media per lui. Coach cardinale invece si affiderà al suo collaudatissimo quindetto composto da Poggi, Strati, Gentili, Guagliardi e Patani. In un palamangano che si preannuncia caldissimo, la palla a due sarà alzata da Andrea Andretta di Udine che sarà corriguato da Nicolas Pellicani di Gorizia. Passiamo al Venafro. I ragazzi di coach Maschini, m'indicato alla preventivabile sconvitta contro Roma, sta preparando la trasferta di Maddaluni. Una partita inutile dirlo che vale doppio per Minchella e compagni. Vero e proprio scondo salvezze in cui è vietato perdere. Le due squadre infatti sono appagliate in ultima posizione in classifica con soltanto due punti, con un record poco invidiabile di una vittoria e nove sconvitte. Passando al parquet, il coach spera di avere a disposizione Minchella, c'è cauto ottimismo al riguardo. Il resto del roster è a disposizione e il quindetto titolare dovrebbe essere composto da Luglimi, Chiari, Tamburrini e Fossati. Di contro però ci sarà un Maddaluni voglioso riscatto dopo la sconvitta contro l'altra molisana di sette giorni fa. Coach Monda vuol far valere il fattore casa e sul proprio parquet cerca due punti contro una diretta concorrente alla salvezza. Lo starting five campano sarà composto da Desiato, Florio, Caceres, Rusciano e Chiavazzo. 15,6 punti di media per lui. Questo delicatissimo match sarà diretto da Stefano Barilani di Roma e da Lorenzo Lupelli di Aprilia.